musica 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 hagun amatata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio camera 89 che ormai non ha più dei capelli in testa, c'ha un neto di rondine sapete che è sospettato che viene il salciccio a parti per fare ma barba fatta dalla barbiere la testa fatta dalla barbiere i capelli fatta bene comunque signori sti cazzi siamo qui a un nuovo opening pack 10.000 mi piace, prossimo spacchettamento signori tanto lo sapete a che puntiamo oggi veramente stiamo quem oggi ce la divertisse e vi dico ci stanno ben due pacchetti da 100.000 le mettono due l'altro dalla scelta perché non è 10 le metto qua ne apriamo uno adesso 9 7500 e poi un altro vai mamma mia guardo io no no guarderò tu ma vai a sticarsi signori il pacchetto della leggenda e poi no l'ha fatto qualcosa ho fatto qualcosa ho fatto qualcosa ho fatto e dai non è possibile avevo fatto qualcosa mi c'è tutti i doppioni non è possibile no l'aveva fatto regà quello che ha trovato il giocatore erato l'ha fatto il giudice ma ha fatto per me io poi ho trovato chi cazzo ho trovato ma come ricordo non mi ricordo ma qualcuno avevo trovato ma c'è tutti i doppioni mamma mia prima cioè ma se non riesco a trovare niente se non riesco a trovare niente ma l'aveva fatto comunque i pacchetti è ridicolo l'aveva fatto comunque io vi speriamo fatto in mezzo eh l'ho visto anch'io se ragazze ciò voglio verete apriamo sti nove pacchetti da disperazione perché saranno pacchetti de merda che finiranno più vai e ne avete sculus rucci nove quindi otto adesso otto vai ok otto pacchetti no sette no otto ho altri otto adesso sette vabbè così ne apriamo 11 si va bene così no perché otto nove e dieci ma che cazzo sto dire ah quindi siamo a sette eh Diego Castoro ho visto raga comunque promette veramente bene prima pacchetta 100 milioni ha trovato un e merita ceppa di cavolo ma guarda che veramente è assurdo ragazzi è assurdo cioè c'è gente che apri in pacchetta 100 milioni la trova i giornatori stanno così tutti i verdi che si abbracciano tu cazzo mai io raga io ma dopo vediamo io veramente non trovo più niente io non trovo più niente ma Hernandez ragazzi cazzina oh cazzo una volta io non trovi 75 verdi vabbè non ho furiolo cioè io mai apriamo le patatine e riuscivano oh cazzo altri 5 non so non sto tenendo bene conto di quello che è non so 5 però dai cazzo io penso veramente di averlo trovato aveva fatto il mezzo bug puttana strossa grazie bravo ciccio grazie Diego Tortellino grazie ma sai che tu Tortellini di capanna mi manieremo col prosciutto un po' di marmigiano un po' di miselli vabbè ma si mettiamoci pure dentro maiale sopra e il brujedo quattro signori quattro belli duri che muo esce cluse perché è ora decena capito cluse ma c'è c'è gli spaghetti gli spaghetti i tortellini è diventato non netta cluse non netta è diventato ma porco due porco guardi ne mancano 4 2 io 4 ne mancano io mi ruolo da 100 mila ultimo da lui no 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 che no 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 è un altro piccato sti cazzo non troverai più nulla per tutta la verità vuoi aprire e beh perché tanto trovo qualcosa eccolo Gianfranca abbiamo trovato Gianfranca che poi dall'altro ho detto fammi spendere qualche milione di crediti no vedi c'erano un milione e tre c'erano sei milioni esatto ho detto così almeno FIFA vede che sono attivo e metà i giocatori quindi pure che t'hai presa non è mai si se sto video eccolo se sto video lo vedranno mai si certo ah ok dai o se no se non trovo un cazzo sarà uno di quei video che non vedranno mai forza e coraggio gli ultimi due forza e coraggio questo video invece lo vedrete esatto lo vedrete perché c'è cluse e ancora non lo sappiamo noi ma no adesso dopo esatto mo il closer pacchetto compagnagnè campagnaro ma io un po' ma che ne mancano l'ultimo l'ultimo 7500 l'ultimo 7500 uno da 100.000 ragazzi e Ciccio ci troverà chi ci troverà eh no c'è la squadra tua Neymar Messi ho io Messi Messi Hacker Hacker Xando signori 100.000 signori adesso io veramente tanto questo video lo vedrete io non so più che mi sento che trova che ne so è che se me ci pensa bene o lamb 92 o Schweinstein io sto guarda i miei intanto è certo che tu signori mi piace per farmi trovare qualche cosa si aspetta chiamate le vostre mamme nonne non c'è bisogno che tu chiami ogni volta figli no allora c'è una nonna qualcuno che mette si è nascosso il processo ma signori siamo pronti mai poso il fad perché adesso si esulta la scritta non ho vista però c'è attenzione c'è lui oooohh Neymar quanto cazzo lo volevo Neymar quanto cazzo lo volevo Neymar si cazzo si fresca Neymar cosa fa Neymar alleluia all'all'allà porca miseria Neymar che cazzo cosa perché dimmi cosa perché tu nonna e poi fa meglio avere mandato messaggio di sport e ho detto non mi dà tutti a me visto che mi dà Neymar pure a me mando pure a mio fratello perché non c'è due mamma mia quanto quale troviamo closi e mica finisce qua che ci fa con te lo regalano con te e le patatine è questo subito mio oh io lo volevo io di mare lo volevo io ottimo signori poi che abbiamo trovato ma a me che me ne fotte proprio un cazzo c'è abbiamo circio signori signori grandi che avete messo mi piace Neymar attaccate sinistro invia la rogiativa che tanto non me lo fa cambiare non me lo fa cambiare non me lo fa cambiare me lo devo mettere al club ma è al club quello si si riesce con l'altro Neymar adesso vi faccio vedere questo qua dai mo lo tengo va vabbè signori qua c'è da pensare qua c'è da vendere giocatori di comprare adesso abbiamo fatto un 4 del 3 normale classico esatto però signori non è male ho giocato pure con me non pesa tra l'altro signori pollice in su commentate condividete 15.000 mi piace Neymar l'idolo abbiamo trovato l'idolo signori poi comunque ragazzi scrivese me nei commenti qualche informazione esatto qualche cosa che c'è da consigliare e Gifo ne approfitta e spenderà dei big money bella ragazzi ciao l'idolo molto contento e c'è ma adesso è contento saluti alla regina bella ciao 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 ciao